Nicole, come la vedi? La vedi bene? Queste due donne sul quad, no no due donne sul quad, io la vedo molto bene, non ci penso proprio, e niente, apro, chiudo, apro, chiudo, ciao amici, vado, io devo guidare questo quad, ma pensavo che il quad si guidasse come la moto, Nicole come si fa accelerare? Oh qui c'è la marcia, qui abbiamo, vabbè troveremo, ci schianteremo al massimo, mi mettete voi davanti, ci sta tirando fuori il quad, ora ci deve spiegare come guidarlo, zio, ma come si accelera, non è una moto, no vai a vedere, no, no, è che non voglio far figure che non so, come lo accelero, con i pedali? No qua, ah quello è l'acceleratore, ma sei serio? Sì sì credo, non l'ho mai visto, quello è l'acceleratore dici? Forse è come le moto elettrime, non lo so, è un pedale, vabbè lo scopriremo, come siamo carina col caccia, ahia io sono carina, Nicole ancora non l'ho messo, pronta, le voglio proprio prendere da mia madre, non ti è bastato, puoi andare sul parafly, vuoi prendere un po' di botte dalla mamma, pronta Nicky? Andre io conto su di te per le inquadrature, perché io poi non potrò, cioè guidando conto su di te, fantastico proprio, è destino Nicky, sì, certo, il mio riscio non parte, non parte, è il mio cuore, Nicky è partito, sei pronta? Ma ti pidi a venire con me? Ok, le sorelle gamer sono pronte per partire, Muri qua angeli, ma non abbiamo amici, benvenuti in questo nuovo video, le sorelle in ritardo, attaccati, Nicola attaccati eh! Raga, i D&D hanno deciso di lasciare YouTube, Raga, i D&D hanno deciso di lasciare YouTube, Andre pensa a guidarli! Ma ma, li dobbiamo raggiungere, dobbiamo prenderli, ma come facciamo a raggiungerli? Non lo so, hanno uguali, ma soprattutto dietro di noi, ma pedalo vuoto io! Ma io li cercavo dietro, la scema col cuoto mi chiude, guarda! Guarda! Allora, siccome Giulio vuole venire a Milano a lavorare per Deliveroo, ti stiamo portando avanti, adesso andremo a consegnare caramella ai bambini. Cosa Giulio? Ma è partito il mio, è così sciolto, è normale? È partito tutto qua, è velocissimo, va bene, non ci tiene la vita Ciao, stai in fila tu, ciao, la mia mano, ho rischiato la mano Ma sì, a limite colpiamo la nonna, qual è il problema? Ma sì, un colpettino, dai Giulia, uno solo Io non voglio più starci sto cosa, voglio portare indietro Frena, ma non frena, lo vedete che non frena? Ma se continui a pedalare, ci credono Sono quelli dietro che pedalano secondo me Anche secondo me, ma io non pedalo Io le controllo tutti, io le controllo, stanno pedalando Se non vedrete video più sul canale è colpa sua Ma c'è il primo a mano? Aspetta, fra un tanto, vai, piano, piano Ciao, a piano che c'è il dosso, le schiappe le vi ho lasciate dietro Vai Nicole Ciao mamma, sto guidando la Nicole Ciao Ho visto un flash, per me è la polizia che ci sta cercando Beh può essere, speriamo di no, altrimenti sta a rovinare Ciao Grazie, grazie Ti vediamo al prossimo traffico Sputategli, sputategli Albre, non sta pedalando Ci puoi trainare per piacere? Per me Fai l'impennata Dai fai toccare a Nicole con la schiena Vuoi vedere lo sprint? Vai Giulio Vai Raga tranquilli, in versione U Non funziona Ciao Sono ancora viva per ora Frano ma vero Sentito che per i freni che abbiamo noi Ce l'avete un classico come il mio? Vai il vostro Vediamo un colpo al vecchio Si può amenare il vecchio? Si può amenare il vecchio Sono arrivati Ci vediamo tartarughe Qual è il problema? Allora, voi state facendo cose strane Ma guarda lì Quello è ancora peggio Quello sta facendo Ma hai visto? Ma guarda tua nipote Dove sei messa? Raga, porto la nonna Sei pronta, nonna? Non tocca andare con la nonna Nonna, ti prende fuoco il vestito Ciao a tutti Ma cosa dici? Ciao Ciao Ma per me accade il salutare Vai Ciao E si riparte Raga, è come se avessi un peso morto in più C'è una zavorra in più Cos'è? Ehi 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 Nicole Dimmi cosa devo fare Mi piace però la tua posizione Nicole Perfetta A me no Qual è il problema? La cosa bella è che ci blocca tutti i moscerini così Grazie Nicky Chi una cosa devi fare? Devi farci dal navigatore Alla prossima ruotatoria Sta guidandola Nicky Oh Oh Mai fidarsi di Nicole Sono storta raga Vabbè Ma nella vita intendi? Che belle sono queste riprese Mi piacciono guarda Mi piace vedere il panorama di Rimini, Riccione, Cattolica dove cacca siamo Registri tu? Sì dammi Vai Muri pancia amici Ciao amici Benvenuti in questo nuovo video Fanno le fighe Fanno le fighe Dite qualcosa amici Qualcosa Tu Giulio Orcomondo Che c'ho sotto i piedi Tieni Andre registrate Grazie Meno male hai fatto vlog di qualità Grazie Nicky Ritorniamo a prendere la tua schiena Nicky c'è un bozzo qui Più dolore qui Più dolore qua Più qui E fa la cacca da qui È stato bello il quad nonna Ti aggrappavi Ho sentito come ti aggrappavi Che ci riporta l'anno prossimo Ti faccio guidare Grazie Non ci voglio credere Non ci voglio credere Andre Cos'è sta roba Ti sei fatto la pipì addosso Andre Ti sei fatto la pipì addosso È crema È l'ultima sera Tra poco si rientra E per festeggiare questa vacanza C'è solo una cosa Neanche il brucomela Il brucomela dei poveri È così Indovinate di chi è stata l'idea? Mia Sì Partiamo dalla coda Vai Tutti dentro Arrivo anch'io Ci stiamo Come ti chiami? Sono con Giada E tutta la combricola Siamo pronti Sulle mani Sulle mani Giada Raga va velocissimo Sulle mani Sulle mani Su questo brucomela Va troppo minaccia Sì Ciao Mi piace Giada È bellissimo Ci stiamo divertendo tantissimo Come va dietro? Ho paura Ciao mamma Vole televisioni Andre Un altro giro? Che trattacchie Rassivi 2 euro Spesi meglio Della mia vita Guardate che ora rallenta E poi va Veloce Sì Che paura Non hai paura? Sì Ancora uno Sì E così Finisce La nostra Vacanza A Cattolica E adesso vi tocca Assorbirvi 30 secondi Di Sabri Che dice cose a caso Perché altrimenti Il video Non dura 10 minuti Non posso metterla A monetizzazione Beh Almeno Dovete apprezzare L'unestà Che ve lo dico No in realtà Ad Augusto Non si guadagna Praticamente niente Quindi è soltanto Un po' Per prendervi in giro E qui finiscono Le mie prime vacanze A Cattolica Cioè seconde Perché prima L'ho fatta a Rimini Poi a Cattolica E tra poco Arriveranno Subito di fila Datemi tempo Un paio di video Che arriveranno Quelle in Grecia Con il mio amore Grande 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 Sono molto belle Arrivano Un paio di video